Ricominciamo dall'inizio. Ieri sera alle 21 dov'era? A casa, in camera mia. A vedere i derby su Sky Sport. Una bella partita. Non faccialo spiritoso. E sua moglie? Dov'era ieri sera alle 21? A casa, in salotto, stavo guardando un thriller su Sky Cinema. È il mio genere preferito. Com'è possibile? Questi li manda la scientifica. Con Multivision, doppio decodere, doppia smart card, doppio spettacolo. Tutto a casa tua.